Poracci, finalmente ci siamo. In questi giorni molti di voi staranno ricevendo la copia fisica di Metroid Prime Remastered, il ritorno tangibile di uno dei videogiochi più influenti di sempre. Perché se oggi l'annuncio improvviso di questa Remastered ha suscitato una curiosità incredibile nei confronti della produzione, non dobbiamo dimenticarci che Prime è un nome che per quanto dimenticato nel corso del tempo da Nintendo, ha fatto la storia e già nel 2002 la sua uscita fu un vero e proprio evento che scosse tutta l'industria. Non solo Prime riscriveva le regole del gaming in prima persona e traslava in modo ineccepibile il gameplay dei Metroid in due dimensioni in un contesto 3D, ma inoltre si trattava di un titolo uscito fuori dal nulla, un progetto che sulla carta era destinato a fallire. Dopo anni di silenzio e il salto di un'intera generazione di console, Nintendo ripescava un'IP amatissima dai fan, ma stravolgendone completamente l'aspetto e la struttura, affidando l'ardo compito a un team alla sua prima esperienza. Quella di Nintendo fu più di una vera e propria scommessa, fu un salto nel vuoto dove furono presi enormi rischi anche a costo di compromettere per sempre il futuro della serie. Come ricordato dal lead developer John Whitmore durante un'intervista di Dino Gaming, a Miyamoto non interessava del destino di Metroid, non trattandosi di una serie creata direttamente da lui, a Miyamoto non importava nulla, cito testualmente Whitman, se Retro Studios avesse ammazzato definitivamente Metroid. E guardate che il sentimento di scetticismo non si aggirava solo dietro le quinte, ma anche i fan e la stampa specializzata dell'epoca, per quanto rimasti folgorati dai primi teaser del titolo, non riponevano chissà quale fiducia tanto nella scelta di Nintendo quanto nelle capacità di Retro Studios. Per dirvi, così si apriva l'anteprima del gioco apparsa su Cube nel numero 4 di settembre 2002. Il processo di sviluppo di Metroid Prime è stato a dir poco un calvario nel corso degli anni. Il problema principale incontrato da Retro Studios è stato da sempre quello di organizzare un team stabile, tra vai e vieni dei collaboratori e conseguenti rallentamenti del progetto. La faccenda cominciava a farsi preoccupante, in quanto a pagarne le conseguenze non era certo un nome di seconda classe, ma uno dei più prestigiosi e maturi marchi di Nintendo. A volte eravamo fiduciosi, altre speravamo che la Nintendo togliesse il gioco agli sviluppatori texani. Insomma, dobbiamo essere sinceri. In parte avevamo perso la speranza rispetto a Metroid Prime, e forse è proprio per questo che siamo rimasti di stucco appena abbiamo visto in azione all'E3 il primo lavoro di Retro Studios. Nessuno di noi si spiega ancora come abbia fatto la Retro ad avere una simile impennata, ma essere sinceri non ci importa neanche troppo. Ed ecco, nel video di oggi ripercorreremo proprio questa storia e cercheremo di ricostruire gli eventi che in modo rocambolesco e totalmente inaspettato hanno portato alla creazione di un capolaporo. Preparatevi perché si tratta di una storia assurda e nessuno di voi si immagina quanto fuori di testa sia stato lo sviluppo di Metroid Prime. E già, penso proprio che il video di oggi sarà ricchissimo. Prima di tutto però, se vi piacciono contenuti del genere, vi invito a iscrivervi al canale. Soddisfatti o rimborsati, l'imperativo è unirsi alla conquista non violenta di Internet.poro e la fondazione del Poroverso. Inoltre, in descrizione trovate tanti link, ma nessuna Samus. Ho detto tutto, dai, iniziamo! Partiamo da un presupposto. Dopo il folgorante Super Metroid, la serie era praticamente morta e su Nintendo 64 non ci fu alcuna traccia di Samus Aran. Mentre alcune tra le più grandi IP Nintendo effettuavano il passaggio dalle 2 alle 3 dimensioni, gli Samus si persero completamente le tracce sul Nintendone. Dopo il picco qualitativo raggiunto con Super Metroid, nessuno dentro Nintendo si sentiva stimolato a reinterpretare la formula vincente di Super Metroid. In parte perché il brand non aveva un grande appeal verso il pubblico giapponese e in parte perché, come abbiamo già detto, Miyamoto non era mai stato coinvolto emotivamente verso la serie. Semplicemente per Miyamoto, l'azienda non riusciva a tirare fuori un'idea concreta su Metroid in 3D e quindi gli sforzi morivano là. Il co-creatore di Metroid, Yoshio Sakamoto, addirittura affermò che non riusciva a immaginarsi come il controller del Nintendo 64 potesse essere usato per controllare Samus. La cacciatrice d'Italia sembrava, insomma, destinata a sparire nell'oblio, ma il cambio generazionale segnò anche una svolta nell'approccio di Nintendo. La grande N aveva intenzione di lanciare la sua prossima console con un occhio di riguardo verso l'occidente ed era quindi necessario assicurarsi una line-up di titoli in grado di affascinare il pubblico europeo e nordamericano. C'era bisogno, insomma, di nuovi studi in grado di catturare sensibilità differenti. Ed è qui che entra in gioco Retro Studios, o meglio, il suo fondatore, Jeff Spangenberg. Segnatevi questo nome perché si tratta di un pazzo totale, la cui figura rischierà non solo di portare il progetto alla cancellazione, ma anche di mettere in serie i guai Nintendo. Spangenberg iniziò a farsi un nome all'interno dell'industria già dai tempi del Nintendo 64, quando il suo team Iguana Studio mise la firma su Turok Dinosaur Hunter. Gli ottimi risultati della produzione portarono l'azienda a essere comprata da Climb, che pochi anni dopo licenziò immediatamente Spangenberg, a causa di comportamenti a dir poco eccentrici, che di suo denunciò a Climb, accusando la compagnia di aver infranto gli obblighi contrattuali. Ottenuto un bel capitale da questa disavventura, Spangenberg fondò Retro Studios, che all'epoca del suo concepimento aveva la sede dentro casa sua. Ma visto che nel corso degli anni Spangenberg, lavorando con Acclaim e Iguana, aveva stabilito parecchie connessioni all'interno dell'industria, questi riuscì ad attirare l'attenzione di Nintendo. La grande N, memore del Dream Team messo in piedi per accompagnare il lancio del Nintendo 64, trovò in Retro Studios uno di quei nomi che avrebbero rappresentato l'arma principale per permettere al Gamecube, nome in codice Dolphin, di fare breccia nel cuore dell'Occidente. Nintendo quindi investì ingenti somme di denaro in Retro Studios, e Spangenberg iniziò a spendere. Ma tanto! Non solo la nuova sede del team era ora un colossale ufficio di quasi 4000 metri quadrati, praticamente un parco giochi che comprendeva anche una sala per il motion capture, ma inoltre decise di assumere tantissimi creativi provenienti dalle parti più disparate dell'industria dell'intrattenimento, molti dei quali avevano alle spalle dei curriculum veramente notevoli, ma non direttamente connessi alla sfera dei videogiochi. Da ex impiegati di Iguana, fino a dipendenti Valve, Lucasfilm, e anche altre persone direttamente connesse al franchise di Star Wars, Retro Studios in poco tempo arriva ad accogliere oltre 120 dipendenti. Preso dall'entusiasmo del momento e voglioso di impressionare Nintendo, Spangenberg divise la sua squadra in quattro gruppi, ognuno dei quali avrebbe lavorato a un progetto differente. Sappiamo che questi quattro titoli erano NFL Retro Football, Thunder Rally, un gioco di combattimenti tra veicoli, un action RPG in terza persona, Raven Blade, e infine un progetto di cui solo recentemente si è scoperto il nome, un action adventure intitolato MetaForce. Capite bene che senza alcun tipo di esperienza concreta alle spalle, gettarsi da subito in quattro differenti ambiziosi progetti pensati per una console di cui ancora non si conoscevano bene le specifiche tecniche, non è che fosse un azzardo, era proprio una mossa senza senso. Va tenuto conto poi che negli uffici Retro Studios non sembrava esserci una direzione precisa e le varie divisioni non comunicavano tra di loro, complice anche il fatto che gli sviluppatori avevano a disposizione solo un dev kit del Dolphin. I lavori quindi procedevano a rilento, i programmatori seguivano il loro intuito e di conquiste concrete se ne erano fatte ben poche. Dal 98 al 2000 dei quattro giochi non si era visto praticamente nulla, se non qualche sporadica tech demo. Il gioco di football non aveva alcun render, mentre l'RPG non aveva ancora un motore grafico su cui costruire l'ossatura del lavoro. Venivano così a galla tutti i problemi della gestione, assente di Spangenberg, che nel formare la squadra non aveva pensato minimamente a creare un team organico e strutturato. Insomma, era un vero e proprio disastro. Ma l'obiettivo di Spangenberg era più che altro quello di godersi la vita. E mentre era impossibile avvistare il buon Jeff negli uffici texani, intanto il fondatore esperperava i soldi Nintendo in macchine di russo e festini privati. Arrivò però un momento in cui Nintendo iniziò a domandarsi che fine avessero fatto i suoi soldi. Così, nel 2000, una divisione giapponese dell'azienda capitanata da Miyamoto fece visita agli studi di Retro Studios. E il risultato, come vi potete immaginare, fu disastroso. I rappresentanti di Nintendo furono scandalizzati dai non risultati ottenuti dai quattro differenti team interni a Retro Studios. Tutti gli investimenti della grande N si erano volatilizzati e quindi fu necessario un intervento drastico. A fronte di licenziamenti su licenziamenti, tutti e quattro i progetti furono cancellati. Anche Ravenblade, nonostante fosse quello su cui al momento erano stati fatti i più progressi. L'attenzione di Miyamoto si soffermò però su Metaforce, l'action adventure di stampo futuristico che vedeva come protagoniste tre eroine intente a combattere il male su un pianeta post-apocalittico. Vuoi per il setting, vuoi per la scelta della protagonista femminile, ma anche per la qualità degli artwork prodotti in fase di preproduzione, Miyamoto si convinse che Retro Studios aveva le carte in regola per produrre il ritorno di Samus. Il tutto però sotto l'attento controllo di Nintendo stessa, che non avrebbe più lasciato carta bianca a Spangenberg. A tal proposito sappiamo che nel 2001 Nintendo acquisì la maggior parte delle azioni di Retro Studios da Spangenberg, trasformando l'azienda in un team first party. E di sicuro non lo fece per gli incoraggianti risultati ottenuti negli anni precedenti, ma più che altro per fare fuori Jeff. Ebbene sì, perché oltre alla disastrosa gestione delle produzioni, Spangenberg aveva uno stile di vita a dir poco dissoluto. A un certo punto iniziarono a circolare in rete delle foto di Spangenberg e altri impiegati Retro Studios intenti a prendere parte in dei festini con spogliarelliste, vaschedromassaggio e via dicendo. Queste foto erano tutte raccolte su un sito, Sinful Summer, che era una sorta di diario personale di Spangenberg, che non solo caricava i contenuti da un IP riconducibile alla sede di Retro Studios, ma in più ci teneva a documentare il più accuratamente possibile i suoi hobby. Tutte le foto erano catalogate con data e ora, e tanti di questi festini avvenivano in mezzo alla settimana durante l'orario lavorativo. Una figura del genere non poteva essere ricondotta in nessun modo a Nintendo, che quindi, acquisendo Retro Studios, fece sparire dalla circolazione l'ex fondatore, un po' come se non fosse mai esistito. Steve Barsi apprese le redini della compagnia, mentre Mark Pacini divenne il nuovo director di Metroid Prime. Lo sviluppo vero e proprio su Metroid Prime poteva finalmente procedere senza interruzioni, anzi, poteva iniziare. Ma le cose non andarono di certo lisce come l'olio. C'era infatti una grandissima pressione sugli sviluppatori, e un eventuale fallimento del progetto avrebbe portato alla chiusura definitiva di Retro Studios. Inoltre la supervisione di Miyamoto non fu di certo accomodante, e furono numerose le frizioni tra il team americano e il leggendario game designer. Lo sviluppo di Metroid Prime fu così contraddistinto da un continuo tira e molla tra Retro Studios e Miyamoto, che imponeva le sue idee allo studio texano. Anche giustamente, sebbene tante delle scelte di Miyamoto si siano poi rivelate vincenti, i ragazzi di Retro Studios faticavano non poco a stare appresso alla visione del papà di Mario, e in più di un'occasione si presentarono degli ostacoli apparentemente insormontabili. Ad esempio, la scelta del gameplay in prima persona fu fortemente voluta da Miyamoto, che sentiva la necessità di rendere Prime un titolo immersivo già a partire dalla visuale di gioco. Il team di Retro Studios, che aveva passato i primi tre mesi di produzione a concettualizzare un gioco con visuale alle spalle, sosteneva invece che la scelta corretta da adottare fosse quella della terza persona, l'unica modalità in cui si sarebbero potuti adattare alcuni elementi iconici della saga, come le sequenze della Morph Ball. Per Pacini e Barsia non sarebbe stata abbastanza creare semplicemente un altro FPS, volevano a tutti i costi ricreare la magia di Super Metroid, ma in tre dimensioni. Quindi il primo compromesso raggiunto fu quello di utilizzare la terza persona solo per alcune sequenze, ma vista l'inesperienza del team, riuscire a creare un sistema fluido e dinamico che permettesse di cambiare dalla prima alla terza persona in tempo reale fu una delle sfide più grandi da superare. Tanto che Retro Studios pensò addirittura di eliminare dall'equazione le sequenze con la Morphosfera, ma su questo Miyamoto non accettò compromessi. Retro Studios doveva trovare una soluzione, altrimenti il titolo sarebbe stato cancellato. Gli sviluppatori impiegarono mesi solo per riuscire a creare una meccanica convincente agli occhi di Miyamoto, che solo dopo aver visto in azione il passaggio dalla prima alla terza persona, diede il via libera al resto dei lavori. Vi potete immaginare l'estrema pressione e il periodo di crunch intensivo che caratterizzò i lavori sotto la supervisione di Miyamoto. E purtroppo anche la barriera linguistica giocava la sua parte. Uno degli scambi più iconici tra Retro Studios e Miyamoto fu quello dove, in seguito a un'email tradotta in modo un po' spartano dal giapponese, veniva chiesto agli sviluppatori come sarebbe se Samus avessi la testa di un insetto. Domanda che mise in crisi tutto l'ufficio di Retro Studios che non riusciva a capire perché mai immaginarsi Samus con la testa di una mosca. In realtà Miyamoto si stava interrogando su un concetto più ampio, quello della percezione alterata, e proprio da questo suggerimento, arrivato nelle fasi preliminari di sviluppo, nacque così uno dei concept base su cui si fonda tutta l'esperienza di Metroid Prime, quello dei visori. Allo stesso modo l'idea del visore scan non solo fu imposta dall'alto, ma arrivò praticamente in coda allo sviluppo. Agli occhi di Nintendo doveva essere il device principale per portare avanti la narrativa, ma per Retro Studios si trattava di un'impostazione noiosa che costringeva i giocatori a leggere. Sia mai! Un calo di ritmo che non sarebbe stato particolarmente apprezzato dal pubblico occidentale. Per questo il concept del visore si trasformò rapidamente in qualcosa che integrava, da una parte una forma di collezionismo con il logbook da completare, dall'altra diventava anche uno strumento per risolvere dei puzzle ambientali. E di esempi del genere ce ne sono a centinaia, ad esempio il sistema di controllo. Retro Studios progettò il titolo immaginando un'impostazione da FPS classico, credendo che il Gamecube sarebbe stato accompagnato da un controller simile al DualShock, ma quando si ritrovò davanti al design finale del controller GC era chiaro che si trattava di una periferica pensata appositamente per i titoli della grande N e non per un FPS qualsiasi. Recentemente uno degli sviluppatori ha raccontato a Diduno Gaming come poco prima della chiusura dei lavori su Prime, Miyamoto si presentò nella sede di Retro Studios, giocò 15 minuti impugnando il controller e cambiò tutto lo schema di input per renderlo più intuitivo e immediato. Lo stupore degli sviluppatori fu enorme. In un non nulla, Miyamoto era riuscito a risolvere un problema che si portavano avanti da mesi, il tutto con una semplicità senza pari. Il gioco aveva ora il suo sistema di controllo definitivo. Insomma, lo sviluppo di Prime fu un vero e proprio inferno e gli sviluppatori dell'epoca ricordano i dieci mesi finali dello sviluppo come un periodo orrendo caratterizzato da un crunch estremo e da una pressione insostenibile. Ma a prevalere fu la voglia di rivalza che spinse il team a superare se stesso chiudendo così un progetto che ancora prima di nascere sembrava destinato al fallimento. Il teaser mostrato durante le 3 del 2001 lasciò tutti a bocca aperta, ma ancora prima che i trailer iniziassero a scombussolare le aspettative dei fan era chiaro che la sola idea di Prime, di un ritorno in tre dimensioni di una serie amatissima dal pubblico occidentale, stava generando un interesse senza precedenti che neanche Nintendo credeva di ottenere. Insomma, lo abbiamo detto dall'inizio, erano i primi a non credere alla potenza del brand. Non è così assurdo sposare la tesi di alcuni sviluppatori di Prime che sostengono che Fusion sia nato solo dopo che l'interesse della fanbase intorno al titolo Gamecube fece realizzare a Nintendo il potenziale della saga, tanto da commissionare un titolo che avrebbe accompagnato in parallelo sul GBA l'avventura principale. Il resto è storia. Pubblicato finalmente il 18 novembre 2002 in America e all'inizio del seguente anno in Europa e in Giappone, il successo di Metroid Prime fu senza precedenti. Con oltre 2 milioni di copie vendute, quasi 3 al giorno d'oggi, e una media di voti che rasenta la perfezione, tanto da essere ricordato ancora oggi come uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, Metroid Prime segnò la rinascita del brand di Metroid e anche la nascita di una nuova stella, quella di Retro Studios. Nel corso degli anni lo studio texano sarebbe diventato una delle principali forze creative di Nintendo, sigillando non solo la trilogia di Prime, ma confezionando anche il ritorno della serie Donkey Kong Country e apportando il suo contributo alla serie di Mario Kart. E tra progetti cancellati e anni di silenzio, ora gli occhi sono tutti puntati su Metroid Prime 4, un gioco che rappresenterà il culmine creativo di un percorso iniziato oltre 20 anni fa. E non sapete quanto io sia felice dell'arrivo della remaster di Prime, perché rigiocando questo titolo storico, ho riprovato le esatte stesse emozioni che sperimentai 20 anni fa, quando per la prima volta inserì il minidisco di Metroid Prime all'interno del Gamecube. E non si tratta di un banale effetto nostalgia, no, Metroid Prime è un titolo che sembra uscito ieri e che ancora oggi conserva un fascino senza pari. E per questo sono contentissimo che tanti di voi lo stiano scoprendo oggi per la prima volta e riescano così finalmente a comprendere perché tanta emozione davanti al semplice reveal di un logo, quello di Metroid Prime 4. Allo stesso modo spero di essere riuscito a rendere giustizia con questo video alla complessità di una storia che merita di essere ricordata e anche raccontata. Va ricordato infatti che dietro a ogni produzione videoludica ci sono sempre mesi, se non addirittura anni, di durissimo lavoro, di fallimenti e di scommesse che non sempre ripagano nel migliore dei modi. E questo vale per qualsiasi software, sia i capolavori che le produzioni meno ispirate. Io comunque vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche a questo video lunghissimo, viva Metroid e viva anche chi riesce a mantenere alta l'attenzione su contenuti di certo, non di semplice fruizione. Sono veramente orgoglioso di questo video e spero di essere riuscito a intrattenervi e a informarvi. Se produzioni del genere vi piacciono, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e se proprio siete deporacce al 100%, magari prendete in considerazione l'idea di supportarmi su Patreon. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, voi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, soni, tranquilli, ma soprattutto metroidate duro. Io sono il Porodroid, Michele Prime, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto. come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Mezz'ora! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno!